La statale 303 del Cossico è chiusa per turno. La statale 409 del Baltico è chiusa per ferie. La statale 108 del Sostaco è chiusa per sempre. La provinciale 233 del Mincio Fileto è chiusa per sbaglio. La provinciale 107 L'Aquila Pescasseroli è chiusa per frana. La storia tra Antonio e Loredana è chiusa per corna. L'impiegata statale Luisa Crototti è aperta a nuove esperienze. Via Garibaldi 2, terzo piano, citofonare Lola. La strada comunale del Parco Ticino è chiusa. La chiusa sul Ticino è aperta. La sarta di Alberto è esperta. La presa della Bastiglia è certa. La nonna di Sofocle è allerta. Il ponte sul fiume Lellope è crollato. Il crollo sul fiume Cintore è pontato. Il ponte sul fiume Maspore è saltato. Il salto di Mimì l'acrobata è riuscito. La strada provinciale in Bottina, 131 a 4 corsie in provincia di Lecco, è ridotta a 3 corsie nei pressi di Ponte Fresia per lavori. Quindi si riduce a 2 corsie nei pressi di Federola a causa di una frana. Poi ad una sola corsia nei pressi di Cocco Viccola per smoltamento, fino alla località Cerreto dove svanisce definitivamente nel nulla. Si prega prestare attenzione. Il ponte girevole sulla Niene e in località Capranita non riesce più a fermarsi. Si prega di prenderlo al volo. A causa del vento forte nel tratto Baiano-Candela, tutti i benzinai sono spettinati. All'area di servizio Mellopane, sub dell'autosole, il distributore ha esaurito il gasolio, il bar ha esaurito le brioche, le toilette hanno esaurito gli asciugamani, i water hanno esaurito l'acqua, gli automobilisti in transito hanno esaurito la pazienza, il gestore è ormai completamente esaurito. Si prega non fermarsi. Grazie a tutti.